Abbiamo qui la Barbarina e la Marcellina di queste fortunatissime nozze. E io sono molto felice quando riesco in qualche maniera a tenere a battesimo dei valori così rigogliosi. Abbiamo avuto una delizia nell'aria che apre il quarto atto con l'opperluta deliziosa fatta da questa ragazza che voglio che si presenti al pubblico che non sa ancora chi ha. Noi ti abbiamo sentito nel circuito dell'Aslico e ti abbiamo come adesso con Marigona e ti abbiamo, che è la nostra Barcellina e quindi vi abbiamo inseguite in quello di Parma e adesso a Reggio Emilia. Dunque, cosa dite di questa produzione? Siete contente? Una grandissima produzione, sì. Con dei colleghi stupendi, professionisti e una cosa veramente molto importante per noi. Bene, sentite, prossimi progetti, voi siete giovani e chiaramente in questo momento è difficile farsi avanti per quei giovani ma avete qualche prospettiva qui in Italia? Vi possiamo seguire da qualche parte? Lo speriamo. Ecco, speriamo che queste nozze siano di buon auspicio. Marigona, parlando di te, per me è stata una grande sorpresa innanzitutto perché un attimo, aspetta un attimo, sono un secondo un attimo, sono... La chiamiamo? Sì, dai, hanno il punto. Marigona, io ti ho scoperta in YouTube ed è stata una conferma ancora più bella sapere che dal vivo è così brava con quest'area di Marcellina quando tu in realtà nel concorso hai cantato l'area di Violetta è recitativa, aria... Sì, faccio un'altra cosa, sì, sì. Ebbene, e quindi qui è stata una sorpresa ma mi aspetto e ci aspettiamo che tu possa cantare. Adesso quali programmi hai prossimamente? Sto facendo delle varie audizioni per i ruoli, per così, audizioni conoscenti e poi vediamo... Ruoli da giovane, non più da vecchia. Ruoli sempre belli e divertenti, diciamo. Sempre belli e divertenti. Bene, e allora noi vi auguriamo di poterci deliziare ancora come avete fatto questa sera e veramente vi... speriamo da voi il massimo perché siete molto brave e ci avete stupito e siete piaciuti a tutti. non solo a me ma anche al pubblico, soprattutto. Grazie mille. Grazie.